Amici di Calcio Catania.it ancora una grande esclusiva per voi, siamo in compagnia del nuovo allenatore della Catania, Rolando Maran, al quale chiediamo subito le prime sensazioni, le prime impressioni, a margine della prima fatica, la conferenza stampa. Se fossero così le fatiche, siamo a posto tutto l'anno, è stato un piacere e l'impatto è stato bellissimo, positivo, siamo qua in un centro sportivo che è uno spettacolo, per cui le prime sensazioni sono senz'altro belle, è iniziato questa avventura già oggi e mi sembra di essere già dentro a questo percorso. Il suo spessore tecnico è comprovato anche dagli ottimi risultati ottenuti dal Varese con la favola svanita proprio ad un soffio dalla realizzazione, una promozione in Serie A sfiorata e comunque un calcio gradevole ed efficace proposto a più riprese, però il Presidente ha sottolineato un altro aspetto al di là della sua preparazione tecnica, cioè questa grande voglia, questo grande orgoglio, questo spirito, questa immedesimazione immediata nella realtà Catania. Sì, questo mi fa piacere nel senso che è ovvio che quando si intraprende un lavoro, il mio è tra l'altro anche un piacere, vivo di calcio, ma perché è prima di tutto una passione. Arrivi a, dopo vari percorsi, a fare tanti anni di Serie B e adesso si corrono un sogno, nel senso che comunque adesso arrivo nella massima serie in una piazza importante come Catania e questo ovvio che dopo tanta gavetta è un bel arrivare, perché ripeto, per la società prestigiosa, per la piazza prestigiosa, per questa piazza che è così calda, arrivare dopo tanta gavetta è un grande piacere, ci arrivo ovvio che con grande entusiasmo anche. Maran e il 4-3-3, Maran e la flessibilità tattica? In tutti questi anni mi è capitato di cambiare spesso per esigenze, perché secondo me un modulo poteva portare più risultati di un altro. Questa è una squadra costruita per un 4-3-3 e questo ne prendo atto e sono contento che sia così. Poi, in base alle problematiche che avremo, valuteremo poi di volta in volta quali saranno le soluzioni che si potranno adottare, però insomma sicuramente una flessibilità che possa portare dei risultati. Tanti giovani tecnici si ritrovano quasi improvvisamente su una panchina di Serie A. A lei è toccata una strada senz'altro più dura, più difficile quella della gavetta, partendo dalle esperienze da vice per cominciare poi da tecnico della prima squadra in Serie C, quindi la B, tanti anni di B e infine la prima opportunità della Serie A. Ritiene che questo sia un vantaggio per lei? Io credo che arrivarci con dell'esperienza in un'avventura così importante sia sicuramente un aspetto positivo, un aspetto che mi fa arrivare con più certezza e con più sicurezza nel lavoro che in tutti questi anni ho portato avanti. Qual è il suo rapporto con i calciatori rispetto insomma alle due grandi linee che vengono di solito tratteggiate, quella del sergente di ferro oppure quella dell'allenatore amico Maran, che strada sceglie? Scelgo rispetto, io do grande rispetto ma ne pretendo altrettanto. Credo che da questo poi possano partire le basi per un buon lavoro. È ovvio che io ho un ruolo diverso dai giocatori, rispetto deve essere, io devo dare l'esempio, dare il rispetto, questo vuol dire che comunque il mio ruolo è diverso da loro e loro per essere, devono fare in altrettanto modo, riuscire a rispettare le scelte, riuscire a rispettare il lavoro, i compagni, la società, i tifosi. Io credo che quando si parla con questi presupposti si può iniziare un buon percorso. Due anni di contratto, un lasso di tempo sufficiente per realizzare grandi cose, tra l'altro lei ha esperienze anche di progetti biennali ripetute nel tempo, Trieste è una di queste e Vicenza ha anche al di là di quelle che sono state le complicazioni in corso d'opera. Lei ritiene anche di poter dire in questo momento che il progetto Catania lo vede spalmato su due anni e non già sulla singola stagione? Beh, se mi è stato proposto un contratto di questo tipo sicuramente è così, io ne prendo atto, questa cosa mi riempie di orgoglio e di responsabilità e non fa altro che aumentare ancora la mia attenzione al lavoro che dovremmo fare, che dovrà essere mirato per far crescere questa società, questa squadra e questa piazza. Si ritrova una squadra che riparte dall'undicesimo posto nello scorso campionato di Serie A e da un innesto piuttosto che da una cessione perché il direttore Gasparina ha appena ufficializzato l'arrivo di Salifu, insomma una squadra competitiva, una squadra che comunque rimarrà tale a prescindere da quello che il mercato dovesse riservare, è stata molto chiara la società. Maran, cosa si sente di poter dire ai tifosi? Intanto sicuramente il campionato che è stato fatto è stato un grande campionato, un campionato dove sono stati ottenuti dei benissimi risultati, complimenti a chi mi ha preceduto perché ha fatto un buon lavoro e sappiamo che andiamo a incontrare una Serie A forse un po' diversa degli anni scorsi e degli ultimi anni dove probabilmente sono tutte società blasonate per cui incontreremo probabilmente una serie un po' più forte. Noi come Microsoft Società dobbiamo prima di tutto essere capaci di mantenere la categoria e questo è fondamentale. E poi riuscire a crescere, se riuscire a crescere non bisogna mai lasciare nulla di intentato nei propri propositi, bisogna cercare di crescere e andare avanti passo dopo passo perché questo è l'unico sistema secondo me per mettendo grande impegno, mettendo grande passione per ottenere dei risultati che magari alle volte sembrano isperati invece poi arrivano. Cristian Maraner in veste di vice allenatore e Pino Herrera in qualità di collaboratore tecnico sono i primi pilastri del suo staff che sarà completato nei prossimi giorni. Qual è il rapporto che la Lega ha Maraner al di là di questa assonanza tra l'altro a livello di cognome? Questo infatti sembra strano, sembra quasi che abbiamo fatto a posto ma non è così, anzi se potessimo lo cambieremo, però no, a parte di scherzi. Ovvio che ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo giocato insieme ai tempi del Chievo, però al di là di questo c'è grande da parte mia, so che è una persona che mi può dare una grossa mano, me lo sono sempre portato a posto perché credo che sia un valido collaboratore per cui c'è un rapporto veramente vero e non da yes man, anzi ci sono dei confronti perché questo deve essere un collaboratore, questo prendendo da un collaboratore, per cui il rapporto schietto è sicuro che sarà come sempre un valido aiuto. Alcuni siti internet che si occupano di Catania specificamente sono andati a scovare una particolare curiosità legata alle sue preferenze punzicali, cosa c'entrano gli U2 con il calcio? Probabilmente c'entrano poco, è una mia passione, li ho sempre ascoltati volentieri e questo però con il calcio credo che non abbiano attinenza anche se sono durati molto a lungo nel loro ambito, io spero che Marano e Catania possano durare tanto come loro stanno facendo da tanti anni. C'è un pezzo che vorrebbe come colonna sonora di questa sua avventura? One sicuramente è un pezzo al quale sono legato. Mister, in chiusura un messaggio rivolto esclusivamente ai tifosi che si aspettano comunque un Catania spumeggiante come più dell'anno scorso ma soprattutto un Catania passionale. Io credo che questo deve essere il messaggio, il messaggio deve essere una squadra che è pronta a sacrificarsi l'uno per l'altro, è pronta a mettere tanto coraggio, non ha mai paura di sbagliare ma anzi il coraggio di sbagliare perché dal coraggio di sbagliare poi nascono grandi cose. Per cui credo che il Catania non potrà prescindere da coraggio, da sacrificio, da qualità perché anche le qualità degli singoli giocatori saranno importanti. Per cui credo che queste tre cose debbano essere veramente il nostro filo conduttore da qui alla fine. Torniamo infine su due novità di giornata. La prima relativa all'ingaggio ufficiale del centrocampista Salifu, il giovane ganese classe 1992, vorremmo che lo descrivesse proprio lei che lo ha fatto esordire in Serie B e l'altra legata al fatto che il Catania è ufficializzato che per il secondo anno consecutivo il ritiro precampionato si svolgerà a Torre del Grifo. Per quanto riguarda Salifu, Salifu è un ragazzo che ha fatto esordire due anni fa, è come se fosse un 94 ore, un ragazzo che ha esordito molto giovane, non aveva mai fatto una partita in una squadra perché lui è stato tesserato quattro giorni prima che lo facesse esordire, è un ragazzo che ha della gran forza, è un ragazzo che copre molto campo, un centrocampista completo perché sa anche andare al tiro, sa anche crudere l'azione. Credo che il Catania abbia chiuso una buonissima operazione. Per quanto riguarda il ritiro, visto il centro non c'è di meglio, credo che sia la scelta giusta, ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio. Se l'avessi visto prima, l'avrei deciso io di non muovermi da qua. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.